Musica Volge al termine il ciclo di seminari Buongiorno Digitale, curato dal punto impresa digitale della Camera di Commercio di Firenze, nato per promuovere la diffusione della conoscenza dell'innovazione nelle aziende di tutti i settori economici. Rebranding, la cultura torna al centro, è il titolo dell'incontro che ha avuto come ospite Tommaso Galligari, responsabile della comunicazione delle gallerie degli uffizi, che anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione hanno visto una progressiva crescita del numero di visitatori. L'approccio e la mentalità di chi viene agli uffizi, di chi frequenta il museo è già cambiata, perché queste strategie hanno senza dubbio contribuito ad ampliare in modo massiccio e significativo il pubblico, soprattutto per quanto riguarda la fascia dei giovani. Noi abbiamo oltre un terzo di visitatori che si stanno strutturalmente inserendo come giovani il museo, che è una novità, è una cosa che prima non avveniva, e di sicuro avviene anche grazie a tutti i tipi di linguaggi, di contenuti e di modalità di comunicazione che il museo mette in atto nei loro confronti interessandoli. Tante volte capita che siano i figli a chiedere ai genitori di essere portati agli uffizi. Magari hanno visto un video su TikTok, magari hanno visto qualcosa sul sito, magari si sono incuriositi su un'opera di Instagram, ma questo è il nostro obiettivo, dobbiamo interessare e appassionare le nuove generazioni all'arte, perché altrimenti non ci penserà nessuno. L'esempio degli uffizi che hanno raggiunto importanti obiettivi rinnovando il proprio brand e il proprio stile di comunicazione è importante anche per le aziende degli altri settori. Parliamo di come si può rinnovare il brand agendale, anche tramite il digitale, e dargli veramente una visibilità, un'identità particolare. Il caso degli uffizi è emblematico, un nome che è ritornato molto evocativo sul mercato. Questo ribranding del logo Uffizi ha portato il numero di visitatori a 4 milioni di visitatori nel 2002, quindi un'azione di marketing intorno ad un marchio evocativo, un esempio per tutte le imprese del territorio. Il ciclo di seminari si unisce al consueto servizio offerto dal PIP. All'interno della Camera abbiamo anche un importante, della Camera di Commercio di Firenze, un importante servizio di consulenza che riguarda invece la tutela della proprietà intellettuale, in questo caso, quindi marchi e brevetti. Quindi registrare un marchio, oggi fondamentale per la politica di brand e di ribrand, può avere anche un'agevolazione all'interno della Camera di Commercio perché ci sono a disposizione per dei primi orientamenti dei consulenti della proprietà industriale in convenzione su appuntamento per le aziende. Quindi bisogna rivolgersi al nostro ufficio Marchi e Brevetti, quindi brevetticheocciola.fi.camcom.it per avere un appuntamento e approfondire il tema relativo al marchio e al brand in generale. Acquisti Verdi sono in programma tre webinar organizzati dalla sezione toscana dell'Albo Gestori Ambientali per spiegare i criteri ambientali minimi per gli acquisti nella pubblica amministrazione. Primo appuntamento il 23 maggio, a cui seguiranno il 13 e il 27 giugno. Per gli interessati, visitare il link dedicato del sito oppure cliccare sul QR Code. Mercoledì 24 maggio, webinar gratuito dalle 14 alle 16 e 30 sulle merci extracomunitarie in esonero totale o parziale dai diritti doganali, ovvero i regimi speciali dell'importazione temporanea, che consente alle imprese europee di effettuare lavorazioni presso aziende extraeuropee. Gli interessati possono visitare il link dedicato sul sito www.fi.camcom.gov.it oppure cliccare sul QR Code. La Camera di Commercio ricorda che sulla pagina dedicata del proprio sito sono a disposizione tutte le informazioni relative alle scadenze e agli importi del diritto annuale per l'anno 2023. Visitare il link del sito oppure cliccare sul QR Code. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News direttamente nella mail.